La Santi Interdonato, vicepresidente CSI, termina oggi un percorso lungo diversi mesi con queste finali qui a Fondo Fucile, un torneo che ha dei significati chiaramente sportivi ma principalmente sociali, no? Sì, certamente sportivi e sociali. E si sono disputate delle belle partite, sia nel girone cittadino, qui a Fondo Fucile, nel campo della parrocchia di Gazzi, sia nel girone tirrenico, nel campo di Olivarella, dell'oratorio Giovanni Paolo II, retto da padre Dario Mostaccio. È il secondo anno che organizziamo questa manifestazione e abbiamo fatto qualche miglioramento rispetto all'anno scorso, puntiamo a farne altri per l'anno prossimo. L'obiettivo è quello di dare spazio ai ragazzi che magari sono fuori dal circuito delle scuole calcio, dal circuito delle associazioni sportive direttantistiche e giocano più propriamente proprio negli oratori. Dove si può crescere ancora e soprattutto se ci racconti un po' quali sono state le squadre che si sono affrontate in questo turno finale che si è disputato oggi? Il turno finale è stato disputato dalle prime due classificate del girone cittadino, ovvero l'oratorio San Luigi Guanella di Fondo Fucile e l'oratorio della parrocchia San Nicolò di Gazzi e le due prime classificate del girone tirrenico, l'oratorio Don Pino Puglisi di Nasari, Barcellona e l'oratorio di Nostra Signora di Guadalupe di Rometta Marea. La finale è stata giocata proprio dalle due tirreniche, è stata molto combattuta, molto vibrante ma diciamo alla fine ha vinto il fair play. Ogni partita è stata preceduta da un momento di preghiera condotto da Don Nico Rutigliano, parrogo che regge l'oratorio di San Luigi Guanella e che opera da molto tempo in questo contesto come sapete molto particolare. Diciamo che questo spirito abbiamo visto anche tanti ragazzi dietro di noi giocare ma che continuano in questi minuti a divertirsi in questo spazio probabilmente è la vera testimonianza di quello che voleva rappresentare questa organizzazione, questo torneo. Sì, questo è uno spazio la cui origine voi conoscete molto bene, no? Perché è un campo che è stato ricavato in mezzo alla baraccopoli su un terreno che è stato all'epoca concesso dall'Istituto Autonomo Case Popolari e quindi è un elemento preziosissimo in un territorio particolarmente difficile. Noi puntiamo a rigiocare ancora qui e magari chissà riuscire a lavorare per attrarre qualche finanziamento e farlo diventare un terreno insintetico anziché la terra battuta che state vedendo. Grazie a tutti.